La nuova ondata di crisi finanziaria sta colpendo milioni di famiglie in tutto il mondo e solo in Italia si stima che 6 su 10 non riusciranno mai più a pagare le rate del mutuo, perdendo la casa e accumulando debiti. Questa è una conseguenza di un sistema che ha il tasso di disoccupazione al 13% e una pressione fiscale di oltre il 50%. Se sei in questa situazione e vuoi evitare di accumulare sempre più debiti, nonostante la casa venga svenduta all'asta, oggi abbiamo una soluzione che sta aiutando centinaia di famiglie in tutta Italia, da nord a sud. Ti aiuteremo a cancellare tutti i debiti con le banche o privati. Per una prima consulenza telefonica gratuita, lascia i tuoi contatti nel form in basso. Torna a vivere una vita felice. Torna a vivere un bellissimo